...di dischi venduti, 5.000 concerti per la band più longeva della musica italiana. A Verissimo il fondatore dei Nomadi, Beppe Carletti. Benvenuto! Piacere, molto piacere. Sono molto, molto contenta. Grazie. Ci diamo del tu. Ma ci mancherebbe altro. Di conoscerti. Insomma, numeri veramente straordinari. 16 milioni di dischi, 5.000 concerti. Insomma, i Nomadi è veramente... Ci sono solo i Rolling Stones che hanno un anno in più. Brava, proprio un anno in più. Io mi auguro loro tanta vita, però che smettono di suonare. Così vinci tu alla fine. Allora, oggi raccontiamo la tua storia perché tu hai conquistato veramente i palchi di tutta Italia. insomma, anche di più. Un bel po'. Un bel po'. Eppure sei partito suonando su una scatola di là. Ma sì, perché a casa mia non c'erano strumenti. Non sapevamo neanche cos'erano, però mi piaceva la musica e... Tamburellava un po' di qua, un po' di là. Allora la signora, la proprietaria della casa, ha detto con mia mamma Senta signora, o lo porta lei, suo figlio da un maestro di musica, o glielo porto io. Ora, sai, è difficile che la mamma dica no, non glielo porto. Certo. Però adesso la raccontiamo tutta per bene e cominciamo anche proprio parlando della mamma. Ma iniziamo così, perché ti ho preparato un filmato che racconta Chi sei tu e che cosa hai fondato qualcosa di straordinario. Tutto ha avuto inizio con una scatola di biscotti di latta. Beppe la suonava con le matite colorate come se fosse un'immaginaria batteria. È molto piccolo quando comincia a suonare la fisarmonica, il pianoforte. Si esibisce con i primi gruppi musicali fino al 1963, quando tra Modena e Reggio Emilia nascono i Nomadi. Che cosa vogliamo? La risposta è i Nomadi! In quelli che allora venivano chiamati musicarelli, con Totò e Patti Bravo, entrano in scena per la prima volta cinque ragazzi di vent'anni. Di dove siete esattamente? Di Modena. I Nomadi di Modena, eh? Modena? Nomadi. Sul palco portano la protesta, il disagio giovanile, ma anche la poesia del quotidiano, complici le parole di Francesco Guccini. Quando ascoltammo le canzoni di Francesco le facciamo nostre, non sapendo bene quello che stavamo facendo. Ancora capelloni, ancora Nomadi. Benissimo, bravi. Lui e Beppe sono all'organo 21 anni. E di quel gruppo, che ha unito intere generazioni con canzoni diventate un simbolo, è sempre stato parte imprescindibile. L'anima della band sono sempre stati lui e Augusto, quell'amico che oggi non c'è più. Lui ha sempre creduto nel gruppo, ma proprio si credeva ciecamente. Lui il gruppo era la famiglia. Beppe è un artista che si è messo alla prova anche come solista, ma nel cuore ha sempre avuto un unico, vero, grande amore. Quello per i Nomadi. Che fosse per libertà di volare o semplicemente per sentirsi vivi. Tu sei nato in una famiglia proprio povera, famiglia che aveva poco. Beh, una volta non c'era tanta ricchezza, non è che c'era quello ricco e quello povero, eravamo tutti uguali. Quindi il fatto di andare a scuola di musica costava 200 lire a lezione, erano tanti, due volte alla settimana 400 lire. Poi c'era da comprare la fisarmonica. E lì era un grosso problema, nel senso che una fisarmonica, se mi ricordo bene, mia mamma la pagò 30.000 lire, che era una cosa che, poveretti, io... Fecero le cambiali, vero, per comprare? Sì, si facevano le cambiali. Beh, gli strumenti una volta si compravano tutte con le cambiali, nessuno aveva i soldi per comprare immediatamente o pagare, insomma, una tastiera o un pianoforte. Per cui si facevano le cambiali. Però la fisarmonica è stata, non è stata una cambiale, ma tramite una zia di Milano, insomma, tutto un movimento strano. È arrivata questa fisarmonica a Novi di Modena, dove io sono nato e ho abitato per quasi 20 anni. E lì è arrivata questa fisarmonica, però la cosa, che costava veramente 30.000 lire, mia mamma la puliva sempre e lì è caduta. No! È stata una tragedia, poverete, la disperata. Però il mio maestro cosa ha fatto? Me l'ha riparata tutta, pezzettino per pezzettino, non ha voluto niente. E quella fisarmonica poi è stato l'inizio di una super carriera che siamo qui oggi a raccontare. Però la cosa più, diciamo, la vostra famiglia, che era super, insomma, appunto, con grandi sacrifici, la cosa bella che facevate era la passeggiata la domenica mattina in paese. Beh sì, era una gioia poter andare in paese, ma non piccolo. Prima ci andava solo mio papà, poi quando ero più grandino, insomma, anche io volevo andare a camminare, perché ci si trovava tutti nella piazza del paese. Era un punto d'incontro, perché altri, cosa vuoi, c'erano i bar, ma non è che un bambino, un ragazzino potesse andare al bar. Quindi ci si trovava in piazza, andavamo col papà in bicicletta, andavamo a festeggiare la domenica. Che a mezzogiorno, però, guarda, mi ricordo che mio papà mi dava 110 lire, prendevo un gelato, cioè entravo al cinema... Sono tipo 10 euro oggi, più o meno, meno, 5 euro? Ma prendevo un gelato da 20 lire e 90 lire le pagavo per il cinema. Andavo al cinema alle due e mezza, come aprivo, alle quattro, e ho già finito tutto. Avevo già mangiato il gelato, è finito, è finita la domenica, dovevo tornare a casa. E tu hai iniziato a lavorare prestissimo, facendo proprio il garzone anche. A 14 anni, ma sai, una volta... Per portare a casa i soldi, per la famiglia. I soldini, poi i ragazzi devono essere impegnati. No, ma a parte i soldi che erano fondamentali, ma però anche durante, non so, le vacanze, quando si faceva le medie, così durante l'estate si trovava sempre qualcuno che ti prendeva a imparare a fare qualcosa. Ma più che altro era per farti passare il tempo, per non lasciarti per strada. E poi la svolta è arrivata, diciamo, il super successo. Quando è che è arrivato il super successo? Guardi, il super successo... Che tu hai capito che era cambiato qualcosa. Beh, insomma, allora, tu considera che noi stavamo nelle balliere, abbiamo fatto 63, 64 e 65, andavamo nelle balliere, anche le più belle, perché piacevamo. Ma non perché eravamo belli, ma piacevamo perché per il nostro modo di essere, di fare, che facevamo canzoni di altri. È arrivata l'occasione per incidere un disco che poi non l'abbiamo mai cercato, è venuto così. E lì abbiamo inciso come potete giudicare, abbiamo partecipato al cantagiro di quell'anno lì. E loro, sai, noi passando da una balliera con 400, anche 700 persone che ballavano, in uno stadio, da una casa mai, c'erano 10.000 persone per noi. Io mi ricordo che ho detto una volta quando ho visto, vieni, 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 la prima sera, eravamo a Biella, siamo scostati, ma guarda quanta gente che c'è, guarda che lavoro. Sai, oh, ti immaginano. E lì hai sentito che era cambiato qualcosa. Sì, qualcosina che poi abbiamo all'incontro con Francesco Guccini, che da lì è iniziata. E io e Vagabondo, poi è arrivato, quella è la canzone, e poi però tanto successo, tanti bei momenti, e poi è arrivato il 92, che è un anno per te e per la band terribile, perché lì è successo due tragedie. Sì, non una ma due. Guarda che noi abbiamo fatto gli anni 80 che nessuna casa discografica ci voleva. Poi nel 90 finalmente è arrivata una multinazionale, e ha detto, oh, ma fate ancora gente, piacete, c'è un disco, firma il contratto, e eravamo tutti carichissimi. 90 e 91. Poi dopo, nel 92, proprio all'inizio dell'anno, insomma, abbiamo, io e la sua compagna, abbiamo accompagnato Augusto all'ospedale perché aveva un forte mal di testa, e abbiamo chiamato un infermiere amico, guarda Augusto, non, insomma, puoi fargli raggi, dai. Siamo andati là, un attimo, siamo andati là, gli hanno fatti raggi, è uscito il mio amico infermiere, e mi ha detto, guarda, io non sono un dottore, ma però c'è qualcosa che non va, ma qualcosa che non va come? Ma sai, io ho visto così, ma sai, aspetta che poi ti parli il dottore, poi è uscito il dottore, eravamo io e la compagna d'Augusto, e mi disse, guarda, l'uomo è in una condizione molto difficile, però l'importante è che non abbia emozioni né positive né negative, normale, normale, ma deve essere normalissimo. E successe, purtroppo, che in un incidente d'auto è morto il bassista. Io glielo dovevo dire, non sapevo da che parte cominciare. Cioè, da una parte Augusto stava malissimo. Esatto, è morto il bassista che stava bene, però con un incidente è morto. E glielo dovevo comunicare ad Augusto che, insomma, c'era questo problema, perché dovevamo partire il giorno stesso per la Svizzera, perché, insomma, per tenere vivo un po' tutto, insomma, cercava di muoverci. Mi chiamano a casa, il fratello del bassista di Dante, mi dice, guarda, vieni subito all'ospedale perché, ma cosa, cosa è successo? Dante ha avuto un incidente. Beh, insomma, com'è? Ma vieni qua, vieni qua, però devi venire là. Ho capito subito che era la camera mortuale. E dovevo dire ad Augusto che non si andava mica a suonare. Hai capito? Quindi, glielo ho dovuto dire. Però tu fino alla fine hai finto? Io ho finto, fino alla fine ho finto e gli ho sempre detto vedrai che quando c'erano verso settembre, poi ad agosto, lui voleva continuare, però una sera, l'8 d'agosto, non ce l'ha fatta salire. E loro ho detto, beh, adesso ci fermiamo. Sì, sì. Andiamo a casa, ti mando casa in aereo. No, no, tu mi porti casa in macchina? Beh, andiamo a casa in macchina. Durante il transizio ho detto, beh, stasera dove andiamo a suonare? No, adesso ci fermiamo, tu devi guarire bene, secondo te... e poi... Non aveva capito, secondo te che... No, c'è stata una persona però con intelligenza poca poca. Eravamo in un concerto a Reggio Emilia e a noi mandano sul palco sempre di biglietti, li leggiamo sempre. Non pensavamo che ci fosse una persona così becera che scrivesse un incidente. Augusto ci ha detto che hai un tumore, di che non è vero. Lui ha scoppiato piangere, chiaramente. e non è stato... è stato molto difficile dopo riprendere tutto e capito, pensare a questa cosa qua. Poi dopo pensa che è morto Dante, insomma, un disastro. Un disastro veramente per una persona che... che... insomma, non meritava tutto questo di soffrire, oltre che fisicamente anche mentalmente, per la morte di un compagno di viaggio che era giovane, era un po' il nostro figlioccio, no? Ci giocavamo. e niente, siamo arrivati al punto che poi in agosto tutto è finito e una... ci troviamo qualche sera a casa mia, un amico andava a prendere Augusto perché ancora un po' era un po' traballante. Aspetta un attimo perché il giorno del mio compleanno lui è venuto mi ha abbracciato. Quest'anno ti faccio tribolare. E lui ha detto ma scherzo, quest'anno tocca a te casomai, l'anno prossimo tocca a io, tocca a me, perdone, cosa... cosa vuoi che facciamo? adesso vedrai un paio di mesi si risolve tutto e tutto finirà bene. Dai, teniamo botta io per me è come se suonassimo tutte le sere tanto ci troviamo tutte le sere. Poi dopo ho cominciato a fare le notti a casa sua e lui non voleva nessuno voleva me il tecnico la sua donna e non i fratelli. Io dovevo dire a questi ragazzi e a queste ragazze guardate Augusto non vuole ne vedere nessuno. È stato un compito ingrato quello lì. Quindi tu gli sei stato vicino fino all'ultimo? Fino all'ultimo. Fino all'ultimo respiro? Guarda, all'ultimo... quasi all'ultimo respiro perché erano le 5 del mattino. Io quando andavo a casa lui diceva ma dove va Beppe? E lui diceva la sua donna guarda, va a casa va a fare la doccia perché poverino qua tutta notte così c'era la bicicletta eravamo a 400 metri vado a cazzo mi appoggio la bicicletta mi chiama la sua donna e mi dice corri corri perché Augusto ha gli ultimi respiri. Via. Via la bicicletta e sono andato là e ho fatto in tempo a sollevarla e basta. è stato duro immagino lo è anche adesso dopo 28 anni perché tu ce l'hai proprio sempre come pensiero c'è anche un una canzone nel nuovo album solo esseri umani dedicata più a lui vero? l'ho voluta dopo tanti anni perché farla subito sembrava che volessimo sfruttare il momento però penso che dopo 28 anni insomma un problema vuoi bere dell'acqua vuoi bere dell'acqua? è stato un po' tutto ridere adesso e ti faccio vedere i tuoi nipotini ci stiamo aspettando quando vieni a suonare con noi i tuoi tre nipotini quattro perché è piccolino quattro c'è anche un piccolino e anche i miei due i due cani e come sei come nonno? ma bisogna sempre chiederlo loro ma gli canti un po' cioè gli fai sentire le canzoni dei nomadi? sempre sempre le faccio sentire però sai un 12 anni 10 anni cantate io vagabondo? ma sì quella la fanno dopo il resto un po' meno però ci sta tutto questo perché poi sono giovani quindi anche loro hanno in mano l'iPhone quelle cose lì ed è sono incredibili però insomma sono bravi bambini sono bravi a scuola quello che conta c'è due cagnoni ma la faccia di quella femmina lì che è incredibile e tu sei stato un bravo papà? beh io qua sono con tutti e due poi lì con i mascoli con la femmina erano piccolini forti non ero molto presente col fatto che si andava sempre a suonare per cui non ero presente però quando c'ero insomma loro mi dimostravano tanto affetto e tanto amore non mi posso lamentare perché insomma hanno come tutti hanno studiato e sono diventati bravi sono orgogliosi della tua carriera? ma io credo di sì credo di sì perché me lo fanno anche capire insomma tra un po' arrivano i 60 anni manca qualche un anno però due annetti però il tempo vola quindi lo so è meglio che andasse un po' più piano è un po' più piano un po' più piano sarebbe meglio è giusto è giusto che il tempo voglia è giusto che e poi arrivare i 60 io penso che sarà una grande festa perché è un traguardo per un gruppo dove dagli inizi sono rimasto solo io ma io non dico non sono il più bravo di certo non sono stato il più bravo neanche lo sono adesso però è una storia che è partita con me Augusto quindi da un'idea che se non fosse stata un'idea non saremmo qua di certo Augusto diceva quando facevamo dei viaggi a Casomai Rom solo lui diceva pensa beh perché è bello che sarebbe se un giorno io e te non ci fossimo più i nomadi potessero proseguire bello no? bello e poi diceva sul palco i nomadi sono come l'uomo mascherato non muoiono mai beh insomma dai le canzoni poi sono eterne appunto ci sono delle canzoni nostre che che ancora oggi sono super attuali e moderne che sono moderne insomma piacciono e incontrano ancora i favori delle persone chiaramente e poi c'è un nuovo album solo esseri umani solo esseri umani che è un bellissimo valori vita e amore bravo bravo che abbiamo voluto ecco questo è un sottotitolo valori perché per me i valori che sono l'amicizia la coerenza sono importanti e l'amore è importante l'amore è 360 gradi tra le persone l'amore è l'amore per la vita e dopo sì un album dove c'è questa canzone che abbiamo detto prima dedicata ad Augusto che si chiama il segno del fuoriclasse perché lui era un fuoriclasse il fuoriclasse era sempre il segno in qualsiasi campo nella musica e nello sport da qualsiasi parte e poi c'è anche Enzo Iacchetti che fa Enzino con noi siamo amici l'abbiamo invitato anni e anni fa novellare il mio paese dove tutti gli anni ricordiamo Augusto tranne quest'anno e l'ho invitato è venuto a cantare sul palco e si è emozionato quindi subito e da lì è partita una bella storia bellissima ci si incontra bello ci si vede e gli ho detto Enzino verresti cantare una canzone è venuto di corso secondo me se era a Roma veniva a piedi a Milano ed è stato bellissimo e io sono felice che lui abbia accettato perché ne fa un'interpretazione ma come si fa a non accettare con una persona straordinaria così bella proprio dentro come te tu sei veramente io ho incontrato tante persone qua però tu sei proprio puro cioè nonostante tutti i successi perché ho detto prima 16 milioni di dischi 5 mila concerti sono numeri che al giorno d'oggi fanno veramente venire i brividi io ho cioè viene fuori proprio un'umanità straordinaria io dico sempre che la musica mi ha dato tanto allora io ti ringrazio tantissimo Beppe per questo racconto ricordo il tuo album Solo Esseri Umani appunto questo titolo molto bello e ti auguro altri 5 mila concerti anche di più dovunque ma magari è importante che cominciamo è importante cominciare e poi per i 60 anni ti aspetto qua va bene volentieri per festeggiarli insieme grazie ti ringrazio di aver invitato è stato un piacere grazie sei fantastico scusate l'emozione è stato bello invece vedere la tua emozione grazie grazie davvero ciao ciao Beppe grazie ciao ciao Amore puro, c'è solo verità, sei come il sangue delle mie ferite.